E allora come preannunciato parliamo di liturgia e preghiera perché inizierà il prossimo 26 agosto l'edizione numero 74 della settimana liturgica nazionale che sarà ospitata dall'Arcidiocesi di Modena Nonantola. Come tradizione ne parliamo con il professor Giuseppe Falanga, consigliere del centro di azione liturgica, lui è teologo liturgista e anche docente di liturgia nella Pontificia Università della Santa Croce in Roma. Buongiorno professor Falanga, buongiorno Giuseppe. Buongiorno Paola, un saluto a te e a tutti i telespettatori. Allora come tradizione ci ritroviamo anche quest'anno ma vorrei chiederti dove ti trovi esattamente? Sì Paola mi sono fatto ospitare dalla chiesa sotto casa mia, precisamente sono nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo in Torre del Greco. Alle mie spalle puoi vedere il mio vero parroco, il parroco santo di Torre del Greco, San Vincenzo Romano che è stato un grande apostolo dell'eucaristia e un evangelizzatore proprio attraverso la liturgia. Forse è lui che mi ha trasmesso questa passione, ma poi di lui parleremo magari in un altro collegamento in occasione della festa che ricorre il 29 novembre. Bene, allora sì ricordamelo poi con un messaggio magari. Sì sì, ti porterò nella basilica dove riposa il suo corpo. Benissimo, grazie. Allora oggi sei collegato con noi appunto in veste di consigliere del CAL, del centro di azione liturgica. Sei ancora a Torre del Greco ma a breve appunto partirai per Modena dove si terrà l'edizione numero 74 della settimana liturgica nazionale che Padre Pio TV lo ricordiamo ha seguito per diversi anni. Qual è il tema scelto per questa edizione? Il tema scelto per questa edizione del 2024 non poteva essere che la preghiera. Tutti sapranno che in questo anno di preparazione immediato al giubileo il tema è la preghiera. E noi del CAL abbiamo scelto di mutuare il titolo della settimana liturgica dal tema di una famosissima relazione di circa 100 anni fa di uno dei promotori del movimento liturgico, Albert Bedouin, il quale tenne appunto questa relazione intitolata nella liturgia la vera preghiera della Chiesa. E questo è il tema della settimana liturgica proprio per voler evidenziare in continuità con lo scorso anno ricorderai, ricorderete tutti voi ci collegamo da Chiavari, parliamo della bellezza della liturgia e adesso quest'anno vorremmo declinare come questa bellezza si manifesta appunto pienamente nella liturgia e nella preghiera liturgica che è la preghiera per eccellenza. Allora, appunto hai ricordato Chiavari quindi da nord ci si sposta al centro poi magari vedremo se riuscirai a darci un'anticipazione sulla settimana liturgica del prossimo anno ma tu mi insegni come tradizione spetta poi al presidente del centro di azione liturgica a svelare il nome della diocesi che ospiterà il prossimo anno la settimana liturgica. Eh sì, questa è la sorpresa finale dell'ultimo giorno della settimana liturgica. Posso solo anticipare, siamo in pochi, no? Tu per te e per i telespettatori che quest'anno probabilmente scenderemo al sud e dovremmo essere ospitati da un'arcidiocesi bellissima il cui santo patrono è famoso in tutto il mondo. Va bene, fermiamoci qui. Nel 2025. Benissimo, poi comunque avremo modo di tornare a sentirci per darci anche qualche anticipazione appunto sul 2025 anno giubilare. Il programma è molto vasto, Giuseppe, si parte lunedì 26 agosto per arrivare a giovedì 29 e non vogliamo elencare tutti i vari momenti alle 14, alle 20, alle 18 che si fa, che non si fa. Però qualche momento principale, magari qualche nome di riferimento possiamo darlo. Certo, la settimana sarà aperta dalla prolusione del Vescovo di Mantova che è anche il segretario della Commissione Episcopale per la Liturgia della CEI, quindi sarà proprio una prolusione che ci introdurrà nel tema della settimana liturgica. Non sarà solo lui ovviamente rappresentare la conferenza episcopale italiana perché l'arcivescovo di Modena non Antola, sapete che è il vicepresidente della conferenza episcopale italiana, quindi gioca in casa ma rappresenta nello stesso tempo l'episcopato italiano. Poi in rappresentanza del dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti saremo onorati dalla presenza dell'arcivescovo segretario Monsignor Vittorio Francesco Viola e chicca finale non poteva essere altrimenti, l'hai accennato già tu che l'anno prossimo celebreremo il giubileo, la relazione conclusiva sarà tenuta dall'arcivescovo Rino Fisichella che tesserà un po' le trame di tutto ciò che si è detto durante la settimana liturgica e la rilancerà in prospettiva giubilare per il 2025, cedendo il passo appunto alla 75esima edizione del prossimo anno. Benissimo, edizione numero 75 nell'anno del giubileo 2025 in un'arci diocesi importante del Sud Italia perché lo ricordiamo come tradizione le settimane liturgiche si svolgono per parcondicio da nord al centro poi arrivando al sud. Quindi ricordo il sito chiesamodena.it per info e iscrizioni, credo che le iscrizioni siano chiuse entro il 31 luglio però magari se qualcuno ci segue dalla diocesi di Modena e volesse partecipare senza vitto e alloggio magari ai vari momenti di confronto credo possa farlo. Certo, non è detto che non ci sia ancora qualche posto, basta andare appunto sul sito dell'arcidiocesi di Modena non Antola o sul nostro sito quello del centro di azioneliturgica.it e lì ci sono i riferimenti e anche il numero di telefono per la prenotazione. Benissimo, allora chiudiamo professor Falanga, un motivo per, questo non c'entra niente con la settimana liturgica però visto che hai citato la tua città Torre del Greco alla quale so che sei molto legato, appunto il collegamento da una parrocchia vicino casa, un motivo, due motivi per venire a Torre del Greco. Se magari abbiamo degli amici ecco che ci seguono dal sud Italia e volessero fare una gita fuori porta, va ne approfitto così ti... Beh, sapete tutti che Torre del Greco è conosciuta nel mondo come la capitale della lavorazione del corallo e dei cammei, quindi questo è già un motivo. Il nostro mare si sta ripulendo, non è proprio pulito come quello di Capri e delle isole ma ci si può bagnare come vedete un poco anche dal mio velo di abbronzatura. E poi è una città di grande religiosità e di grande fede. L'Immacolata e San Vincenzo Romano canonizzato da Papa Francesco nel 2018 sono il punto focale della nostra fede, della nostra religiosità e della nostra tradizione. Della religiosità di questa città che è benedetta da Dio perché si trova tra il mare e lo sterminator Vesevo. Il Vesuvio è la montagna più famosa al mondo si potrebbe dire, se non montagna è il vulcano più famoso al mondo, dai. Grazie per questi riferimenti, io aggiungo da buona forchetta la cucina campana ineguagliabile, nonostante io sia pugliese, però posso dire un debole per la cucina campana. Qui pesce e frutti di mare in abbondanza. Ecco, passando anche per la pizza e i dolci, vabbè, ma questo è un altro capitolo. Allora, ti strappiamo una promessa, magari nei giorni della settimana liturgica a Modena ci piacerebbe tornare a collegarci con te e magari anche avendo qualche ospite, se riuscirai a strapparlo dai vari momenti. Con piacere, con piacere Paola. Bene, allora, a risentirci, grazie, grazie al professor Giuseppe Falanga per essere stato con noi, posso dire un amico di Padre Pio TV, dei frati di San Giovanni Rotondo, teologo liturgista e consigliere del CAL. Grazie ancora, a presto. Buona giornata, un saluto a tutti voi.